Marzò, mi sbaglio e mi ricordo che tu c'avevi Tokyo. Io ce l'ho Tokyo, sì. Il cinese con il violino, vi è taffan 2v2 su Tokyo. Eccolo il 2v2 vero, quello sincero e onesto. Bravo Marzò, bravo, bravo Marzò, geniale, geniale, il corridoio a cucchiaio del capitano. Lì, è là, il maestro intelligente. Ah, porco Dio, me l'ha data nel buco. No, no, tranquillo, io gli faccio va. C'era una mosca che andava assolutamente schisciata via per Hamburgerona che adesso vuole il succo ace, il succo più buono di tutti. Il succo ace di Hamburgerona, lì. Ok, for real, regà, divertitevi, vi prego, fatevi un favore nella vita. Basta a sinistra è l'1x quando sei di fuoco, ma non c'è bisogno. Però, ma chi a tira? Eh sì, perché se si incastri la diagonale giusta, il gioco si bugga e il personaggio si ferma. Oh, dai, potevo fare il pallonetto. Bello scambio, ragazzi, bello scambio. Fanno avanti. Dio, the wall del maestro, the wall del maestro, signori. The wall del maestro. Ho giocato a tennis per due settimane in vita mia. Poi mi sono rotesto e poi mi faceva malissimo il gomito. Vediamo se ha capito che gli faccio il cucchiaio, va. No. E che cazzo, però. Mamma mia. Ma inizi tocca. Sì, sì, ti faccio un attimo vedere come si bullizza un italiano. Che schifo! Ma è coso? Ma è fantozzi! È fantozzi palesemente! Lo vedi che è la verità, pure verifica, cioè se uno deve giocare per spaccare a monitor così, non sono pienamente convinto. Ah, se pari nel momento giusto, perfetti. Esatto. E il perfect so bei punti, ma so bei punti anche il coso. Anche se semplicemente ti puoi evitare, vedi? I sidestep sono tutti punti. Ok. Mamma mia, questo lo bullizzo malissimo. Ma se te spara una ulti vince lui comunque a prescindere, pure se il round l'hai dominato, no? Sì, dipende quante volte vai per terra. Che scontro elettrizzante! Che scontro elettrizzante! Arriva per terra! Arriva per terra! Arriva per terra! Arriva per terra! Ma vai vicino che gli tiri il cazzotto siderale quando si alza, no? Se lo mandi per terra tre volte, gli fai KO. Io non ho mai fatto un KO per tre volte mandato per terra. Che scontro elettrizzante! Dai che se ce la fai alzarsi in piedi, si ce provo! Oddio! Oddio, la manina veloce! La manina è molto veloce, imparo l'oners. Ci si prova, ci si prova! No! Dai, ma che palle! Ma dai! Laura, grazie a me 4! No, 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 manca l'ultimo round. Eh, qua lo mando per terra tre volte, eh. Qua è molto probabile che... E poi questo invece ti rompe il culo, zif. Dici, mi rompe? Sì. E potrebbe pure sfasciare. Non la puoi toccare, la più bella! Non la tocchi! Non la tocchi, la più bella! Al bar! Aia, aia, aia! Bam! Vai a casa, fattozzi! Gli ha nervuto! Mamma mia, guarda, c'ha un occhio mezzo storto! C'ha un occhio... No! Si arrende così! Si arrende! È 0 seconda! Regala il ca... Oddio! Invece ci prova! No, ma non ce la fa! Troppo lento, troppo lento! Buonanotte, guancialone, thanks! Buonanotte, bello! Ok, si stanno studiando. È un primo round dove si studiano. Anche se il maestro a punti sta messo molto meglio. Due perfect block... Tre perfect block, signori! L'uomo dei perri, signori! L'uomo del timing! L'uomo della bellezza! L'uomo della provvidenza! Francesco da Bari, Roma e Milano! Francesco da Bari, Roma e Milano! Continua a menare! Vabbè, sì! Ma è mostruoso! Riccardone, grazie per i 18! Marzo, gli devi infilare il potere o stai a aspettare tre, eh? No, sto provando ad aspettare! Ok, ok, non è male, non è male. Ma nel caso vedi che non ci arrivi, sì, lo devi infilare. È molto probabile che non ci arrivi. Infilaglielo, Marzo, infilaglielo! Carca troia! No, l'ho spinto alla fine! No, 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 quel perfect block non è male, sono bei punti! L'ho spinto alla fine, bro! Cima, grazie mille per i quattro! Bello, Marzo, bello! Bello e bravo! L'ha tenuta lì, l'ha tenuta lì, l'ha voluta un pochino tenere lì. Ha voluto mettere un po' di pipo, un po' di pipo! Un po' di cazzo in mezzo! Che cos'è? Perché è stata diventata luminosa? Tu non ti fai domande, Marzo. Quella non te l'ho spiegata così magari partono con un po' di vantaggio. Vabbè, dai, questa zittusa è bravissima pure su ste cose. Mamma mia, io non ho senso, eh. Io non ho veramente senso. Eh, ho sbagliato. Ah, Marzo, una certa cosa, pure il L1 e usi il super velocità. No, non l'ha usata, non l'ha usata subito, se no ti ha reni. No, è arrivato un bimbo che mioterapia è arrivato. No, ma t'ho arrivato 7. Sì, io l'ho fatto stasera. E lei è lui, io bravo! Non è che ho un po' ben capito come vuoi, te l'ho capito dopo, bro. Francesco Tabari. Vabbè, vabbè, Marzo. Qui mi sa che hanno ripreso dei punti, eh. No, abbiamo preso un punto noi, Marzo. Marzo finisce con la BMX. Marco lì, se sto treno parte, tocca arriva a cifra tonda, te lo dico, eh. Mamma mia, ragazzo. Oddio, te prego. Il muro dei 37. Il muro dei 37. Va distrutto il muro dei 37 oggi. Oggi è quel giorno. Elegante, sexy. Caliente la cicciona. Bellissima. No, no. Troppi, troppi non gialli. Troppi non gialli, sì. Troppi non perfect. A saltare è un buff, una merda. Dipende, no. Nel mentre che corri, no. Male. Brutto, brutto. 38 fa. Che disgusto. Non si comporta bene. Oddio, bimbo chemio arriva subito. E poi arriva uomo pre... Uomo baffi. Eh, qua ci wucciano. No, in realtà non ci wucciano. Perché il maestro è arrivato quarto. Allora, questa la vinciamo. 5-0 con 5 ace, eh, Marzo. Lo dico. Dai, signori, però mi guardate le live da due anni di sto gioco. Come fate a non capirle? Bravi. Che devo fare? X, 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 X schiacce. E... Ok, ok, ne sanno. Non voglio andare nell'argomento perché so che da fastidio io ho avuto covid e con Neuronorm medicinale è tornato tutto a posto dopo tre mesi. Neuronorm! A me capi, ma se tu clicchi io non posso cliccare perché non mi ha cliccato. No, 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 se io faccio muro tu non puoi andare. Ah, ok, perfetto, no. Perché mi sembrava non avesse fatto un cazzo. Guarda in lettura. Bravo, Marzo, fagli male. Quando diventa rossa. Ma che devo premere poi? Hai fatto quadrato, fai il cucchiaio. Con X gli devi la stecca. Porco, oddio. Alza sta palla, va. Au, guarda che scambietto. Oh, chance, poro. Tento che schizza via. Eh, lo sapevo. Bello. Ma andati là. Attenzione, attenzione. Non ci arriva. Eh, direi che sei fuori. Poi ti faccio vedere la più bella mentre fa la schiacciata suprema, porco Dio, a 3.000 all'ora. Ho sbagliato io, Marzo? Eh, sì, perché non mi ha fatto niente. Eh, me ha culo, me ha culo, me ha culo. Mannaggia alla Madonna, mannaggia. Sono andato dal medico, mi ha dato stone Euronormo che aiuta il nervo e piano piano sono tornato... Abbiacciata, speggiai! ...e il trattamento è portato, ho smesso di fumare anche perché non aiutava. Pim, 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 ma... Ah! Bravo, bravo, Marzo, cazzo! Attento, attento! L'appoggio, eh? Cilla. io sai che c'ho una medaglia pure di palavolo ma che dici anche io provinciale ho vinto le provinciale holy shit eh si poi ho iniziato a non vederci proprio più senza occhiali e quindi un po' devo giocare più ma tu da nulla Marzo hai iniziato a non vederci no in realtà ce li ho da quando avevo 4 anni il fatto è che prima era normale poi è diventato letale madonna posso farti un passaggio diverso mi sembra quadrato con cerchio a me c'è scritto sempre la stessa come se c'è sempre x fagli male Marzo fagli male Marzo fagli male bravo bravo presa 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 tua Marzo bravo ricezione difficile del maestro che non colpisce la palla ma la colpisce lo stesso oddio si gioca sul fondo la palla rimane in campo hamburgerona si immola fa la finta di muro Marzo è tua bravo cazzo fagli male ma che schifo questa fa male no che merda e uno del gruppo si è preso il covid vabbè non te lo vuoi prendere tu di nuovo no ma ha fatto la mister e ha vinto mi sa che si arrivava a otto mi ha fatto ha usato fare a me la mister Marzo la vuoi vuoi una squadra più tecnica o più fisica non lo so non mi ricordo mancomi se gioca più tecnica o più fisica tecnica tecnica andiamo per il zoom a destra giochiamo quel dodge terzino che è veloce vai a fare un paio di sovrapposizioni con Soda marzo è capoccia Marzo tanto ricordi almeno i tiri no Marzo che stai a fare stai a giocare il caoccio eh non me lo ricordo come ho no non premi mai alle due r2 che fai tecnica del gioco eh volevo cambiare il giocatore non mi ricordo come se cambia sono senza problemi questo potrebbe essere un intrigante problema stiamo fermo lì guarda che palletta guarda lì ma mi dici i tassi se le mani ci sta manco il po tira Marzo tira 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 bello oh Dio deviata 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 te la metto fuori no no te la metto io quadrato fai solo quadrato tu mamma mia il ciro 3-0 sgazzo per i tre ma che cazzo era il grande tiro di piattone no bro e allora no ce la fa bro ma tu sei un rincoglionito ma che cosa ho visto ma che sei tu che comandi sano ma che cosa comando io bro ma che devo era uscito il toti scusate il toti era uscito allora Marzo famo la tecnica del coccodrillo tu ti do palla al solo motore torni tipo alla tre quarti nostra e poi fai quadrato in avanti vai bello bello di testa la tecnica del coccodrillo che è sto schema nuovo a donna rossa donna rossa palla che rimane lì no usa il potere è finito eh vabbè no la vabbè è fuori oddio salva ma no se la riprendeva però ragazzi 2-2 il pareggio al novantesimo Marzo la potemo vincere tu muori male il Sium la inventa per Amburgerona Amburgerona oddio la prendi in bocca mi fa oh è un gran gol Amburgerona quando le stelle devono brillare attenzione che c'hanno dei belli schemi loro eh tranquillo bro no deviata vabbè angolo angolo non c'è problema angolo se lo battono come prima sono dei clown se la mettono in mezzo è un problema eh no non è vero eh palla in mezzo donna rossa di rovesciata è un gol strepitoso ragazzi ma porco di me sono tutti Ronaldo allora Marzo che la passo subito fai quadrato in avanti quadrato in avanti fai subito bello bello che uomo uomo verde lo sapevo che la perdeva uomo verde il potere pure eh lo so rientro me giro uragano di fuoco re delle regine ma questo è il gioco di scoppa eh Perchè fa tutta il Stiro? Tu blu paura, tu blu paura, tu blu paura, tu blu paura 4-4, partita tesissima Aia, aia, aia se la giocano bene No, via, via, via Gianluca è un coglione Ma perché porco Dio non ha attaccato il pallone Faggio Abbaia sei puntata Finita Finisce qui Non ce voglio crede Potevano essere dei rigori fantastici Non ce voglio crede 5 a 4 Finisce qui La vera finale della Champions League Abburgerona ripartenza di Abburgerona Che però viene fermata Che bella partita C'è un lagonismo di una finale Mario Adesso la smanaccia Attenzione perché la palla passa Ma c'è il fazone Bravo Totem No no Bello No che cazzo è sta palla così Bello insieme No 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 non vuole finire La smanaccia Ma attenzione Perché c'è Far no luck hai fatto Ma tu l'avete se mi è stata andata la palla No 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 Io è rimasto sopra di lui Quindi vai il no luck Provano una danji reverse No lo schema del triangolo Eh mi sa che go Mamma Totem Totem Ma l'ha presa dentro la porta Ma l'ha presa dentro la porta Ma l'ha presa dentro la porta Linea 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 Tira Marzo È gol È gol È gol È gol È gol È gol No ragazzi 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 Questo 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 no Questo Questo sì no Questo no Guarda che se dovevo prendere la beffa Guarda che sepiamo la beffa all'ultimo Bello 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 No ragazzi No ragazzi Che sta succede No Non ce voglio credere Bravo Marzo Bravo Va bene Va bene Va bene Va bene Quadrato in avanti Fidati Quadrato in avanti Verso la porta Palla che passa per solo La poteva chiudere La smanaccia No eh No non mi seleziona il giocatore Marzo Non mi Che prego Totem Luzi Sì Sì Madonna 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 ragazzi Madonna ragazzi Mamma mia che game GG Beh bella Bella sfida